Ciao ragazzi, siete carichi per FIFA 23? Ecco alcuni giocatori della serie A, economici ma davvero OP, per iniziare alla grande il gioco. Perché prendere il rabbiò quando vuoi prendere TAMESE? Un bel falegname ma con delle stats sexy. Ma se volete delle alternative che fanno un po' tutto, ecco Pessina del Monza o il Tucumano Pereira. Ti piace Ozyman? Ma se è povero, ecco Beto. Sì, è un po' un tronco, ma corre tanto ed è altissimo. Se Felipe Anderson costa troppo perché è brasiliano, allora prova la sua copia, Zaccagni è uguale. Berardi è sempre troppo sottovalutato, guardalo Mimmo che giocatore. Costerà un po' di più, ma McKennie lo metti ovunque, guardalo. Se ti piace Barella, adorerai Pellegrini. Le statistiche sono praticamente le stesse. E tu fammi sapere nei commenti su chi punterai all'inizio di FIFA 23.